Buona domenica a tutti cari amici di Barba Biancorossa e benvenuti in questo nuovo video. Dunque il giorno dopo Bari-Brescia 6 a 2 ancora inebriati ed abbagliati dalla grandissima prestazione dei Biancorossi, quest'oggi analizziamo un attimino quelle che sono state le parole dette in conferenza stampa post partita dai vari protagonisti soprattutto il mister Mignani passando per qualche giocatore in particolare Bellomo ma ha parlato anche il presidente Luigi De Laurentiis. Per quanto riguarda il nostro mister ha parlato su ogni aspetto della partita e anche ha fatto una panoramica un po' su quelle che devono essere le prerogative di questa squadra per questo campionato in corso. Devo dire che il mister mi sorprende sempre, persona sempre obiettiva, pacata, lucida nelle analisi, molto con i piedi per terra e la testa sulle spalle e naturalmente ha commentato quello che è accaduto nel rettangolo di gioco oltre a quello che ci si aspetta da qui in avanti per le prossime partite. Lui ha tenuto bene il punto per quanto riguarda l'atteggiamento che deve avere questa squadra, quello che non interessa particolarmente al mister non sono tanto i risultati, sì quelli a fini statistici e a fini meramente di punti va bene considerarli ed è giusto considerarli soprattutto in un campionato difficile come quello della Serie B ma l'attenzione lui la sposta fondamentalmente su quanto si lavora durante la settimana, su quali risultati si ottengono col duro lavoro, con il sacrificio, con la determinazione e in base a tutto questo monitoraggio lui mette in pratica il suo credo calcistico, quindi mette in pratica anche le sue scelte dolorose come ha affermato in conferenza stampa perché purtroppo dovendo attuarle per queste scelte è costretto inevitabilmente a lasciare in panchina giocatori che magari anche durante la settimana hanno fatto vedere molto o addirittura mandare determinati giocatori in tribuna. Però soffermandosi sulla partita è stato molto obiettivo, devo dire le trame di gioco sono frutto sicuramente dei suoi dettami di ciò che costruisce lungamente durante gli allenamenti, durante la settimana, ha parlato di fase propositiva, di costruzione del gioco, di un atteggiamento o di un piglio che il Bari fin qui ha sempre avuto ma già portandosi dietro tutto il bagaglio di quanto era stato costruito durante la stagione scorsa in Lega Pro e lui fa il punto direttamente sull'atteggiamento giusto che deve avere la squadra che è quello appunto mostrato nella partita contro il Brescia. Naturalmente analizzando poi ancora più a fondo quelli che sono stati i protagonisti del match lui chiaramente da grande allenatore qual è e quale io lo ritengo sia, analizza complessivamente tutto il collettivo quindi non si sofferma in particolar modo sul giocatore, naturalmente sul giocatore in particolare, nello specifico. Naturalmente hanno funzionato bene tutte quante le fasi, fasi offensive e fasi difensive, i reparti che sono sempre più stretti, sempre più quadrati e sempre più partecipi del gioco. Naturalmente ha voluto anche mettere il punto su un particolare interessante, quello del gol annullato giustamente per fuorigioco dal VAR del 2-1 di IU del Brescia perché da lì poi in avanti la partita inevitabilmente si è aperta dopo il 3-0 ed è andato sempre più increscendo il motivo tattico del Bari offensivo che poi ha portato alla firma di ben sei gol nello score totale. Quindi lui è un allenatore molto obiettivo, è uno che guarda soprattutto al gruppo e questo mi fa molto piacere perché non ha corsie preferenziali verso chi che sia giocatore, che sia un giocatore giovane, un nuovo arrivato, un vecchio senatore. Lui ha solo come è giustamente, come obiettivo il collettivo di squadra e quindi tenere un gruppo, tenerlo sempre con la giusta concentrazione perché solo così si possono raggiungere traguardi importanti. Gli è stata fatta naturalmente la domanda sulla posizione in classifica del Bari insieme in coabitazione con Regina e Brescia stesso e gli hanno fatto appunto una domanda dicendogli appunto mister ma fa abbastanza freddo lì in vetta e lui ha risposto in maniera molto, se vogliamo, diplomatica ma anche sensata che a questo punto della stagione quando si è un attimino un po' anche spensierati sotto il profilo motivazionale e del gioco non ha molta importanza guardare la classifica perché il campionato di B è un campionato a lungo ci possono essere anche momenti, mettiamo le corna di caduta in cui il livello di attenzione si abbassa fisiologicamente perché chiaramente non è possibile ottenere sempre uno score come quello di ieri per ogni partita da qui alla fine del campionato sarebbero degli alieni probabilmente quindi lui ha tenuto a bada tutta la domanda che era stata fornita dal giornalista riguardante la vetta della classifica per l'appunto dicendo adesso si guarda, certo noi la guardiamo ma la guarderanno anche gli avversari perché col passare del tempo naturalmente gli avversari ci conosceranno sempre di più e questo è inevitabile perché più si va avanti nel campionato più si gioca con gli avversari più settimanalmente coloro che vai a incontrare il sabato, la domenica il venerdì sera che sia o il posticipo del lunedì sera sicuramente avranno modo di conoscere e di monitorare molto più attentamente e dettagliatamente le tue proposte di gioco si è soffermato naturalmente anche su i singoli, i nuovi su Aurelien Schiedler che naturalmente aveva bisogno nelle settimane precedenti di ritrovare una condizione un po' più accettabile anche perché lui proviene da un altro campionato dove naturalmente le metodologie di lavoro sono inevitabilmente diverse e diversificate rispetto ai metodi del campionato italiano, comunque al calcio italiano che è un calcio come sappiamo bene a tutti i livelli molto tattico dove il tatticismo la fa da padrone però è appunto rimasto soddisfatto da lui come anche dagli altri nuovi inseriti come Dorval stesso che ha fatto un partitone servendo due assist per due gol ma comportandosi bene anche lungo tutta la fascia nelle due fasi perciò lui naturalmente come sempre e come abitudine sua mister Mignani presentandosi in conferenza stampa è stato molto ma molto obiettivo e molto a tenere le redini molto a bada quindi allenatore che mi piace sempre più veramente un personaggio dedito completamente immerso nel lavoro che gli sta per l'appunto e giustamente portando dei frutti. Hanno parlato anche il presidente dell'Aurentis che naturalmente ha avuto parole al miele per la squadra, per il risultato e per naturalmente la piazza, una piazza a cui va fatto sempre un grosso applauso perché presentarsi in 24.000 di sabato alle 14 con magari una condizione climatica ancora non proprio favorevole per via del sole è qualcosa che raggiunge traguardi importanti soprattutto per quanto riguarda la statistica delle presenze allo stadio per questa stagione come prendendo in considerazione i campionati di B ed A il Bari se non mi sbaglio si attesta intorno all'ottava posizione considerando anche le top squadre di Serie A e questo è un grandissimo merito per appunto la piazza bianco-rossa. Il presidente poi naturalmente fa giustamente il suo apprezzamento per quanto riguarda tutto quanto quello che ruota attorno al Bari a partire dall'allenatore, a partire dallo staff che si porta presso il tecnico, dei preparatori per quanto riguarda anche l'aspetto manageriale, il direttore sportivo. È un collante che funziona integralmente quello del Bari, quindi c'è unità, divisione ed intenti e questo è molto importante per una squadra. Fino a quando non ci saranno sfilacciamenti la squadra renderà sempre al massimo tecnicamente sul campo ma anche mentalmente come approccio alle partite e non ci saranno motivi di disorientamento e quindi in questo senso perché si va tutti uniti verso un'unica direzione che è quella del far bene e per il momento non se ne parla di obiettivi futuri giustamente perché come ha ricordato Mignani bisogna tenere il punto della situazione e bisogna avere sempre questo piglio e questo atteggiamento e portarlo sempre più avanti con continuità e questa è la cosa più importante. Però il presidente naturalmente non può altro che applaudire al lavoro fatto dei vari interpreti di questa squadra, quindi direttore sportivo, giocatori e allenatore. si è lasciato andare il presidente anche con il plauso verso i giocatori di più esperienza come Antenucci che è stato ricordato dallo stadio e che ha segnato su una punizione deviata, i compagni di viaggio da quando lui ha intrapreso la strada di acquisire il titolo sportivo del Bari naturalmente sono lì, sono sotto gli occhi di tutti Antenucci e di Cesare, quindi non poteva far altro il presidente che spostare le sue attenzioni e i suoi ringraziamenti in particolar modo per il lavoro svolto fin qui oltre che al mister e al direttore sportivo ai giocatori di vecchia data come appunto di Cesare e Dante Nucci stesso. Infine ha parlato anche Bellomo, che ha ricordato come il suo ultimo gol contro il Bari fosse stato proprio contro il Brescia in passato quindi cinque anni fa. Per lui sensazione indescrivibile quella di segnare sotto la curva momenti che non si possono naturalmente descrivere quando si segna con quei colori dopo tanto tempo si ritorna al gol in casa, un gol contro una squadra importante, un gol che fa sì che questa squadra agguanti il primo posto, quindi molto emozionato in conferenza stampa Bellomo e naturalmente ha fatto anche una precisazione ovvero che una delle sue vittime sacrificali è proprio il Brescia. Poi è andato negli spogliatoi, è andato a guardare la classifica e lui è rimasto affezionato ai colori della regina, sua ex squadra, guardando la sconfitta purtroppo della sua anche amata regina a Modena ha potuto constatare il primato del Bari in coabitazione con gli stessi calabresi e con il Brescia quindi però anche lui ha voluto rimarcare il fatto che trovarsi lì in quel momento si fa piacere, la guardano loro come la guarderanno d'ora in poi anche gli avversari, quella posizione in classifica del Bari quindi anche gli avversari tenderanno a studiare un attimino e a trovare le contromisure da portare quando incontreranno questa squadra che ci sta dando veramente grandi soddisfazioni. Ragazzi queste erano le parole dei protagonisti che hanno parlato in conferenza stampa post partita, noi il giorno dopo siamo molto estasiati, abbiamo avuto anche da parte di altre piazze anche di Serie A degli applausi, degli apprezzamenti, delle condivisioni anche di di visione del calcio espresso quindi anche da parte di altre piazze e di altre tifoserie ci sono stati ieri molti applausi per la prostazione del Bari e molto interesse mediatico come si suol dire quindi stiamo facendo e stiamo percorrendo stiamo facendo bene benissimo direi anche se vogliamo più del dovuto ma come dice sempre il mister Mignani che è veramente il mio punto di riferimento in questo primo scorcio del campionato tenere il punto sull'atteggiamento giusto da proporre sempre e comunque in ogni partita qualsiasi interprete di ruolo qualsiasi giocatore sia che sia un titolare in partenza o che sia subentrante mantenere sempre quel filo conduttore e tenere sempre la barra dritta in quel senso quindi l'atteggiamento giusto l'approccio giusto la motivazione giusta questi sono i tre cardini fondamentali per sperare di arrivare non diciamo lì comunque però il cammino deve essere questo percorso tutti all'unisono tutti società e squadra tutti come un unico collante detto questo ragazzi io ancora vi esorto come sempre dico a fine video ma anche di inizio video ad iscrivervi numerosi al canale di barba biancorossa quindi iscrivetevi se volete lasciate un like attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni nuovo video che uscirà cerchiamo di salire sperando che questi contenuti che vi sto apportando vi possano garbare vi possano piacere possano risultare a voi interessanti e spunti soprattutto di riflessione quindi commentate anche ai video perché così facendo mi date anche modo di riflettere anche su qualche cosa che magari lungo il percorso magari ho lasciato un attimino meno meno in considerazione quindi sono ben accette e ben gradite le vostre riflessioni anche nei commenti quindi ragazzi io vi saluto vi do appuntamento al prossimo contenuto video iscrivetevi al canale e vi auguro una buona e felice domenica a tutti quanti voi vi saluto ciao a tutti forza bari la bari a lei un saluto da barba biancorossa ciao a tutti